Se sei felice nel tuo lavoro e hai un capo in gamba, non guardare questo video. Ma se non lo sei, ascolta bene ciò che sto per dirti. È importante non rimanere nella propria zona di comfort mentre stai costruendo il tuo sogno. Se vuoi trasformare la tua vita, ecco cosa puoi fare. Numero 1. Risparmiare il più possibile. 2. Fare un piano su come raggiungere il tuo obiettivo nel modo più veloce ed efficiente possibile. 3. Eseguire le azioni che ti portino in modo più veloce verso il tuo obiettivo. 4. Dare la priorità alle azioni più efficaci e dedicare a queste azioni 1-2 ore al giorno. 5. Seguire il piano fino al successo.